Non è una caserma, i dibattiti ci sono in tutti i partiti, i confronti ci sono in tutti i partiti. La cosa molto chiara che ha ribadito anche Berlusconi non c'è alcuna divisione sulla linea politica, sia per quanto riguarda la politica estera sia per quanto riguarda la politica interna. Per quanto riguarda la politica estera noi siamo naturalmente a favore della pace e a favore di tutte le iniziative che il governo, l'Unione Europea e altri soggetti internazionali potranno fare per favorire la via diplomatica. Quindi bene ciò che ha fatto Draghi con Putin e Zelensky, cioè parlare con entrambi. Secondo, siamo dalla parte dell'Europa, siamo dalla parte dell'Occidente, siamo alleati degli Stati Uniti. Questo l'abbiamo detto, è ribadito, è ripetuto, votato, abbiamo soltanto detto, come poi peraltro ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Biden, in un importante articolo pubblicato ieri, anzi l'altro ieri, che le armi dell'Occidente non devono essere utilizzate per colpire il territorio russo, ma devono essere utilizzate per difendere l'indipendenza dell'Ucraina.